Parliamo ora di giustizia perché la Lega torna ad invocare l'introduzione della responsabilità penale oltre che civile dei magistrati. Il deputato Angelo Attaguile, componente della Commissione Giustizia alla Camera, ha preannunciato al Ministro Cancellieri che si farà promotore di un provvedimento insieme ad altri colleghi affinché i cittadini siano tutelati a fronte di abusi e ingiustizie subite a causa di errori di valutazione compiute dalle toghe. Onorevole, il tema della responsabilità dei giudici è ancora di stretta attualità. Lei che cosa chiede? Io chiedo maggiore responsabilità innanzitutto ai giudici, in modo particolare ai PM. Chiedo ai politici, ai miei colleghi di non mollare questa battaglia per tutelare i cittadini onesti. Perché certe volte oltre a sbagliare buona fede da parte dei giudici si può delineare in certi casi anche il dolo da parte dei giudici dove si intravede l'abuso, l'arroganza che devono essere evitati per una democrazia libera e forte. Io ho subito un caso, posso parlare in prima persona però non voglio fare vittimismo, ho subito un caso in cui sono stato assolto con una revisione del processo dove il CSM ha censurato il giudice che portava avanti le mie indagini. Questo giudice nonostante la censura, nonostante le ulteriori denunze che mi ha fatto e che mi hanno visto sempre assolto ancora oggi giudica ad alti livelli. Quindi io vorrei capire come mai un giudice che sbaglia e che si intravede anche la responsabilità penale dettata, verificata dal CSM ancora continua a fare il magistrato. E questa è la domanda che lei rivolge al nuovo Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri. Sì, proprio, faccio in testo questa battaglia, questa iniziativa, anzi vorrei proporre una legge con altri colleghi in modo che si può avere una forza politica che vada al di sopra gli interessi personali ma per tutelare i cittadini italiani.